amici di unica channel ben trovati a questo nuovo appuntamento con il settimanale del nostro web tg accanto a me il direttore della nostra testata giuseppe de silva con il quale parleremo ovviamente di fatti più importanti accaduti negli ultimi sette giorni fatti più importanti che sono successi proprio negli ultimi giorni della settimana delle forze speciali inglesi volevano liberare i due ostaggi un italiano l'altro inglese tentativo fallito perché sono morti tutti e due gli ostaggi e a quanto pare il nostro governo è stato avvertito dopo la tragica conclusione di questo tentativo di liberazione ma vediamo prima il servizio l'italiano franco la molinara e l'inglese christopher mcmenus prigionieri nigeria dal maggio 2011 sono stati uccisi durante un blitz operato dalle forze speciali britanniche con il sostegno di quelle di sicurezza nigeriane i due lavoravano in nigeria da 11 anni per la stessa società di costruzioni la stabilini visinoni il governo italiano è stato avvertito dell'accaduto soltanto dopo lo spiega una nota di palazzo chigi in cui si legge che il presidente del consiglio mario monti è stato informato telefonicamente dal premier britannico david cameron che gli ha comunicato la tragica conclusione dell'operazione intesa a liberare i due ostaggi massimo d'alema presidente del copasir l'organismo parlamentare per la sicurezza della repubblica ha chiesto al governo di londra chiarimenti sul blitz deciso dalle autorità britanniche senza aver avvertito quelle italiane e allora direttore facciamo un po una panoramica no parliamo un poco del peso che ha l'italia a livello internazionale in questo momento pari a zero caro giovanni perché ci sono troppi episodi che non ci convincono troppi episodi che dimostrano come troppe cose nel mondo si muovano senza l'intervento specifico dell'italia allora dobbiamo andare un po per sommi i cavi il blitz degli inglesi in nigeria è una bestialità in termini sia dal punto di vista tecnico nel senso che i blitz si fanno in un altro modo sia dal punto di vista politico perché quantomeno i paesi coinvolti si informano prima non a cose fatte o durante è bello non so pensare che si cominci con una gara di formula 1 si parta e il via venga data soltanto per 10 15 macchine e la ferrari resti al box al palo no perché sta aspettando ancora che qualcuno gli dica puoi andare non si fa così le regole non si cambiano in gioco quindi il blitz degli inglesi mi dispiace ma è un'autentica cappellata fatta dal governo cameron hanno voglia di dire dall'altra parte dell'oceano insomma dall'altra parte della manica che noi eravamo stati informati in qualche modo che londra era a conoscenza di queste cose eccetera non è vero un accidente altrimenti il presidente napolitano che è persona avvertita e serissima non si sarebbe permesso di dire che londra ha fatto una figuraccia allora ricordiamo poco no dicevi scusa volevo cercare di analizzare di andare a vedere no anche gli episodi recenti episodi gravi l'italia chiede al brasile l'estradizione di cesare battisti picche la questione dei due marò la giurisdizione la deve andare alla magistratura italiana perché il fatto è successo in acqua internazionale sono stati uccisi in acqua internazionale però il governo indiano non ne vuole sapere deliberare i nostri militari questi rischiano la prigione rischiano l'impiccagione c'è stato un lancio di agenzia proprio di qualche attimo fa nel quale si diceva con un virgolettato veniva riportata una fonte del governo indiano nel quale si diceva valgono le nostre leggi quindi un ulteriore schiaffo alle posizioni italiane un ulteriore schiaffo anche al nostro presidente monti il quale si era preso la briga di telefonare la premier indiana per dire ragazzi quale cose non vanno bene ma insomma noi non possiamo fare sempre la figura di quelli che dormono guardate perché bisognava regolarsi diversamente allora sulla questione degli ostaggi e ricordiamo anche il caso di rossella urru che noi continuiamo a tenere in vita teniamo in rete perché lo lasceremo in rete il nostro appello fin tanto che rossella non tornerà a casa salutiamo anche gli amici di cagliari il comune di cagliari che ci ha messo anche sul sito per ricordare sempre la questione urru sulla questione degli ostaggi in africa sul povero italiano che è stato ammazzato nel blitz inglese ripeto gli inglesi hanno fatto una pera cottata autentica però noi dobbiamo stare un po più attenti cioè i nostri servizi segreti ma che fanno dormono e il nostro la nostra intelligenza noi siamo bravi guardate nell'intelligenza siamo capacissimi e ma dove stavamo che abbiamo fatto dove stavamo allora bisogna fare un po di necessità virtù e cioè far comprendere ai nostri amici europei che noi siamo l'italia saremo non so la cenerentola per quanto riguarda gli interventi in armi nelle parti diciamo però abbiamo un nostro peso specifico determinato nella cultura dal fatto che noi comunque in europa contiamo qualcosa l'abbiamo dimostrato con la politica economica bisogna fare di più bisogna farsi di più nelle sedi opportune i marò io i marò non li avrei consegnati agli indiani sarei tornati indietro con la nave mi sarei messo nelle acque internazionali non li avrei consentito nemmeno in caso nel caso in cui ecco come è accaduto stavano nel porto non li avrei fatti salire sulla mia nave perché sapevo che andava a finire da quelle parti perché gli indiani questi andavano cercati come mai trovare il capo dei spiatori altra cosa che vorrei sapere poi però è questo detto ai margini ma qualcuno ha detto che i nostri sono innocenti o no nessuno e allora lo vogliamo cominciare a dire o non lo vogliamo cominciare a dire oppure sotto sotto dobbiamo pensare che gli italiani hanno fatto una cappellata io questo non lo voglio pensare la questione è sempre stata chi deve giudicare e noi dobbiamo partire però anche dalla verità e cioè l'hanno ammazzati veramente se ne hanno ammazzati veramente è un conto se non le hanno ammazzate è un altro conto va bene è un doppio piano il piano della giudizionale su questa Italia c'ha ragione e però bisogna anche non si può dire soltanto c'abbiamo ragione c'abbiamo ragione perché si diceva una volta in campagna la ragione è dei fissi bisogna anche saper giostrare in certe occasioni e allora sarebbero comunque da ricercare non le cause di questa perdita di peso a livello internazionale inevitabile che ci stava una perdita di peso perché noi siamo troppo presi dai nostri problemi interni abbiamo una politica estera che non sempre è condivisa da tutto l'arco parlamentare e questo comporta evidentemente una perdita di peso a livello internazionale e forse anche di sfiducia no? di fiducia volevo dire ma sì ma indubbiamente non siamo affidabili perché poi abbiamo sempre noi dobbiamo renderci conto di un fatto cioè se vogliamo essere un grande paese dobbiamo inevitabilmente convincerci che alcune missioni internazionali devono essere più partecipate ok ma forse anche da livello interno no perché legislature che non riescono mai ad arrivare alla fine cioè l'ultima è stata quella di 2001 ma è chiaro che se io se io ho un interlocutore che si chiama Pingo Pallo e con il quale Pingo Pallo ho un certo tipo di dialogo improvvisamente questo Pingo Pallo non c'è più e c'è Pingo Pallo numero 2 che ha alle sue spalle una maggioranza diversa con una politica diversa è chiaro che l'interlocutore internazionale dirà ma io con chi devo avere a che fare con Pingo Pallo è evidente che siamo anche noi che ci tiriamo la zappa sui piedi da soli praticamente no e allora parliamo di governo sembra sì stiamo parlando di governo parliamo delle diciamo di questa spaccatura la prima spaccatura della maggioranza che sostiene il governo tecnico Monti sì vertice fallito sì ma anche in questo caso qui vedete noi dobbiamo un attimo cercare di comprendere alcune cose cioè il governo Monti era nato e è nato per mettere a posto appunto i conti dell'Italia per consentire un recupero di credibilità soprattutto all'estero per quanto riguarda la politica economica ora io ho l'impressione però che il governo Monti stia mettendo mano un po' a troppe cose nel senso noi dobbiamo riprenderci la mission del governo Monti cioè economia lavoro messo a posto dei conti e tutela di alcune categorie sociali se magari fosse possibile questo al di là di questo il governo Monti non dovrebbe andare allora io non vorrei che si fosse creato questo meccanismo Monti si sente sicurissimo della maggioranza ancorché io non mi sarei mai sentito troppo sicuro perché basta toccare alcuni argomenti e la maggioranza viene messa si sfalta a rischio e l'abbiamo visto con questo vertice perché perché nel vertice si doveva parlare di che cosa di televisione ma ragazzi miei ma noi con il mare di problemi che abbiamo sul tavolo dobbiamo andare a parlare di televisione delle frequenze e non le frequenze e anche questo è un problema del nostro paese però poi attorno a questo però si crea sempre la solita bagarre perché a dire quello che stai dicendo tu è il segretario del PDL Alfano mentre invece i ministri dicono no non è vero noi avremmo parlato anche di altre di altri argomenti non solo di televisione e non solo quindi si sarebbe parlato di televisione si si sarebbe parlato di ma in questo momento chi se ne frega della televisione scusate a parte che ormai insomma no mettetevi sul web vedetevi unica channel no la teniamo un po' lì insomma facciamo una battuta e va bene ma in questo momento con problemi del lavoro la fiume in piazza che saranno anche pazzi quelli della fiume ma evidentemente se ci sono 2.000 3.000 4.000 anche 5.000 o anche 10 persone in piazza ma vanno rispettate anche quelle 10 persone ancorché io sono conto il governo delle minoranze no questo lo sapete l'ho sempre detto ok quindi problemi dal lavoro primo problema della fraternità problema sanità e abbiamo visto quello che è successo a napoli con queste baronie continuo nel mondo della sanità cardarelli capirà ci sono tantissimi bravi medici al cardarelli ma questa storia del primario no che spostava persone dal reparto del cardarelli alla sua clinica è una cosa in decennio noi siamo convinti speriamo che il primario possa dimostrare la sua innocenza ma se i giudici dovessero confermare questo e questa è la punta dell'iceberg che cerchiamo benissimo quello che succede a napoli con le cliniche private con i medici negli ospedali e poi il punto questo bisogna arrivare ad un punto fondamentale il medico o c'è il pubblico c'è il privato stop non ci possono essere condizioni diciamo di interconnessione tra queste due scelte perché perché si finisce col fare le cose che faceva il primario se il giudice lo confermeranno che faceva il primario nel suo reparto a vantaggio della sua clinica sì quindi questo è un punto un altro guaio la giustizia in italia ma è mai possibile non dobbiamo aspettare 30 anni per avere una causa diciamo civile e questo comporta che cosa che praticamente ognuno si fa giustizia da solo no ognuno si arrangia qua dalle nostre parti c'è ancora in vigore l'uso di andare da qualche amico dell'amico che si mette in mezzo fa da mediatore tra virgolette e risolve il problema ok ma con tanti problemi sul tappeto sanità giustizia lavoro noi andiamo a parlare delle televisioni ma chi se ne frega in questo momento delle televisioni ma pensiamo ai nostri conti pensiamo a come dare uno sviluppo al paese pensiamo a dare un po' di fiducia ai giovani che si sentono strangolati dalla crisi si sentono strangolati dal fatto che non possono trovare un posto di lavoro ma stiamo scherzando cioè siamo veramente cose assurde allora per me ha fatto bene al fare non andare a perdere tempo a parlare di queste cose ancorché chiaramente qualcuno dirà ha difeso il suo padrone che è Berlusconi ma in questo momento ma chi se ne frega delle televisioni affrontiamo il problema ma facciamolo a fine legislatura risolviamo prima il problema più grosso e poi dopo andiamo a parlare di queste cose questo è un argomento che spacca c'è poco da fare perché c'è sempre chi è pro e chi è contro quindi torniamo all'antico non mi sta bene non va bene non va bene bisogna cambiare aria allora un altro argomento di cui ci troviamo sempre a parlare ogni settimana è quello della coppa america a napoli manca poco meno di un mese no all'inizio delle gare il 7 aprile inizieranno le prime regate ancora non si conosce ma noi qua l'avevamo detto da questo nostro piccolo pulpitino eh sì me lo ricordo me lo ricordo ci manca una risata mi ricordo la coppa america sarebbe stata pari alla coppa delle coppe tele perché guardate gli americani onestamente se ne frigano di quello che si fa sulla costa agli americani basta che ci sia il campo di regalo tanto le navi sono arrivate le barche di ac 45 famosi catamarani alcuni equipaggi sono già venuti a farsi un sopralluogo per vedere quali alberghi sono stati messi a loro disposizione l'americano scende da via partenope se viglia la barchetta se ne vanno il campo di regalo si fa regalo poi se ne strafrega di quello che fa napoli è chiaro allora napoli se vuole cogliere l'occasione si spicciasse ma noi siamo ancora qua a meno di un mese che non sappiamo ancora il villaggio come viene gestito da chi viene da chi sarà gestito soprattutto che cosa si fa nel villaggio quali sono gli eventi collaterali rispetto a quelle che sono le regate ancora non sappiamo a che ora cominciano cioè lo sappiamo che c'è il calendario è stato stilato il calendario ma ce l'ha dato l'organizzazione della coppa america mi ce l'hanno dato loro o la regione o il comune ce l'ha dato qualcosa nessuno ci ha detto niente gli amici industriali che si sono messi e si giocano la faccia su questa coppa america ragazzi muovete una mostra la figura colorata è dietro le spalle cioè o meglio davanti a noi vabbè diamoci una mossa ecco quindi l'amministrazione di centrosinistra no di napoli che non riesce ancora a trovare il bandolo della ma dalle di napoli e confluiscono elementi delle provocazioni e confluiscono elementi di sinistra ecologia e libertà italia dei valori e partito democratico no partito democratico diciamo non sta attraversando un momento felice sereno ma è da quando è nato cioè almeno quello che ho potuto constatare io che il partito democratico non attraversa un momento sereno e c'è caos soprattutto a palermo e abbiamo visto come sono state condotte le primarie cioè è mai possibile il segretario bersani non so è anche un po da dire che bersani persone simpatiche avvertita e francamente io credo che faccia politica in modo sincero ma sceglie un candidato a milano e vince il candidato a sinistra estrema sceglie un candidato a genoma e vince quella della sinistra estrema sceglie un candidato a palermo uno specifico borsellino e vince il candidato caro bersani se tu fossi uno sconfettitore no mi farebbe da pensare se bersani ha scelto questo io batto su quell'altro così vengo sicuro sì quindi non andiamo d'accordo cioè se il pd vuole essere veramente il partito che deve come dire guidare la riscossa del centro sinistra del riformismo contro il presunto conservatorismo del berlusconismo diciamo così ma bisogna anche fare in modo che chi effettivamente rappresenta una parte ampia della popolazione poi riesca a compagliare questa popolazione e a offrire dei candidati credibili per la popolazione sì senza poi dimenticare quello che è successo a napoli no in occasione ma sì ma non ne parliamo di napoli guardate perché napoli poi è sempre una questione a sé abbiamo visto napoli che bisognava vincere a tutti i costi ha vinto dei magistris che praticamente li ha smarcati tutti comportandosi come si è comportato riuscendo ad instaurare direttamente un contatto con il popolo napoletano e quindi il popolo napoletano ha votato dei magistris proprio perché secondo me il popolo napoletano non le votava più dei partiti sì ma Napoli come la storia è sempre un caso a sé Borsellino il nome scelto dal PD a Palermo era un nome di tutto rispetto no perché Borsellino è la sorella del giudice Paolo Borsellino e quindi voglio dire io insomma era un nome serio eppure il PD è riuscito a perdere siamo messi malissimo caro Bersano dove il PD sta particolarmente inguaiato il termine giusto è a Casoria non ce ne vogliono gli amici del PD di Casoria però sono la realtà dei fatti perché noi abbiamo un PD che addirittura pubblica due manifesti uno a sostegno del sindaco Carfora l'altro contro ragazzi miei spiegatemi a me a Casoria chi è il PD che fa il PD dove va ci sono quattro consiglieri eletti nel PD che sono contro l'amministrazione ce n'è un altro invece che a favore e che sostiene gli assessori che stanno in giunta invece gli altri quattro li contestano e vogliono buttarli a mare a tutti i corsi è una sindrome PDL perché noi sappiamo che a Casoria anche il PDL ha fatto questo ma prima delle elezioni però si sono spaccate hanno fatto due liste il sindaco scende è stato buttato fuori poi è stato rientrato un macello assoluto Casoria anche diventa un laboratorio politico se così lo vogliamo chiamare amici del PD un labirinto più collaboratorio bravo ma datemi una regolata perché così non si può andare avanti facciamo ridere i polli dalle falde del Vesuvio poi arrivano gli echi lontani della questione di scarica la Cava Sari il Tar della Campagna ha detto che la Cava Sari può continuare a ingoiare i rifiuti nonostante il ricorso presentato dall'amministrazione comunale di Terzigno apprestiamoci a vivere un'altra stagione di proteste anche a Terzigno nuovamente perché chiaramente i cittadini vorrebbero vedere chiusa la cava prima o poi il Tar gli ha detto no è allargata va bene così potete buttare quello che volete non ha detto così però insomma il senso che vivano i cittadini è questo possiamo mandare in rete il servizio la discarica dei comuni vesuviani meglio conosciuta come Cava Sari resta aperta perché l'impianto non ha subito incrementi significativi dopo i lavori di allargamento di conseguenza può ancora accogliere altri rifiuti lo stabilisce il Tar della Campagna che ha respinto dunque il ricorso presentato dagli avvocati per conto dell'amministrazione comunale di Terzigno la decisione del Tar potrebbe ora provocare non poche fibrillazioni nella zona vesuviana dove cittadini e comitati attendono da tempo la chiusura definitiva dello sversatoio non nascondono la loro delusione le mamme vulcaniche che fanno sapere erano fiduciose e speravano in una sentenza del Tar a loro favoribile le associazioni cittadine dell'intera area vesuviana si ritroveranno domenica mattina in piazza Pace a Bosco Reale per protestare contro la discarica di Terzigno allora rientriamo in studio concludiamo con Lucio Dalla Lucio Dalla c'è stata questa spiacevole indecente e volgare stupida polemica perché Lucio Dalla va considerato un uomo un artista e una persona per me oltre questo francamente io direi di stendere un velo pietoso perché andare a tirare fuori la storia che il signor Dalla era gay lo voleva dire, non lo voleva dire doveva dirlo per i gay, non doveva dirlo per qualcun altro ma ragazzi miei, ma noi stiamo tirando per la giacchetta uno dei più grandi artisti italiani del dopoguerra e lo tiriamo per la giacchetta dopo morto quando praticamente lui non può neanche dire ah vabbà ma siamo veramente messi malissimo la collega Lucio Annunziata alla quale noi ci genuflettiamo perché per carità ci genuflettiamo più di una volta di dare fuori questa storia Lucio, ma tu sei pure una meridionale quello che dico io quindi dovresti essere ancora più sensibile su certi argomenti così come durante la spissione di Giletti una signora ma noi non parliamo del Dalla uomo delle sue problematiche ma chi se ne frega a me mi interessano le canzoni di Dalla mi interessa che si è comportato sempre bene e stare sempre una persona a posto questo mi interessa stop poi la bandiera o non la bandiera non ha voluto fare la bandiera doveva fare la bandiera ma le bandiere neanche nel calcio ci sono più ma quale bandiera volevamo fare di Lucio Dalla per me Lucio Dalla è stata la bandiera di un artista e di una persona per bene va bene la mettiamo così non voglio dire più niente e allora con questo va bene anche per questa settimana ci ritroviamo la prossima settimana sperando sempre di parlare di cose più allegre cose che ci possono mettere più di buon umore il panorama questo è se poi qualche amico che ci ha raggiunto adesso mentre stiamo facendo qua ci dà qualche notizia insomma un po' più interessante a noi fa i miei c no questo potrebbe sembrare una battuta ma la dobbiamo dire perché qualcuno insomma già l'ha scritta sui giornali la diciamo il nostro amico Sossio Salma che va a fare il presente che salutiamo che salutiamo del Consorzio Cimiterale Salma al Cimiterale vedete voi pace all'anima sua esatto vabbè abbiamo concluso qui allora questo nostro in bocca al lupo in bocca al lupo al nostro amico Sossio Valma concludiamo qui il nostro appuntamento settimanale grazie dell'attenzione appuntamento alla settimana prossima grazie